Secondo ospite della trasmissione di questa sera, speciale elezioni regionali, è una donna, vado subito a presentarla, Valeria Palladino, esperta contabile, nonché candidata alle elezioni regionali nella lista di libere uguali, quindi possiamo definirla una candidatura di una donna di sinistra? Assolutamente sì. Che per la prima volta partecipa a una competizione elettorale direttamente da candidata, non è mai stata candidata in passato? Sono nuova a questa esperienza, sono candidata all'interno della lista di libere uguali che appoggia a una coalizione di centro-sinistra dove vede candidato alla presidenza Carlo Veneziale. Sono appunto nuova perché ho deciso appunto di mettermi in gioco e di appoggiare il programma politico di Liberi Uguali, che comunque è un partito nato da poco, da pochi mesi, precedente alle scorse elezioni politiche. Ho creduto fortemente in quello che è il loro programma. Credo nel programma politico di Liberi Uguali, nato appunto dalle elezioni politiche scorse, che ha visto come neoeletta l'avvocato Giussi Occhionero, che rappresenta la nostra regione al Parlamento. Il sottolineo che Liberi Uguali si è costituito in opposizione a quello che era scelte politiche di sinistra che fa capo al governo Renzi e che ha deciso di scendere in campo in maniera autonoma. Io personalmente ho appoggiato questo programma in cui credo e dove ci sono delle scelte fondamentali. Innanzitutto sottolineo che all'interno di questa lista ci sono tantissime donne che come me hanno deciso di mettersi in gioco e di provare a dare un contributo con la loro formazione professionale e anche personale alla politica regionale. Ecco, lei ha parlato di una sorta di diversità, di contrapposizione anche se vogliamo, di Liberi Uguali a livello regionale. Quindi in queste elezioni regionali con le politiche fatte dal centro-sinistra, soprattutto a livello nazionale. E che hanno visto chiaramente nel Partito Democratico il motore principale di queste politiche, che sono state politiche di stampo neoliberista. Quindi politiche che hanno privilegiato la privatizzazione, soprattutto in determinati settori. Come la sanità, e lei da cittadina del Basso Molise ne sa qualcosa. È un punto focale e anche dolente direi. È uno di quelli che... In Basso Molise oggi è diventato difficile curarsi, è vero. Nel Basso Molise purtroppo abbiamo assistito dopo la costruzione di un bellissimo ospedale, ad esempio nella città di Larino, che ormai è diventata una cattedrale nel deserto. Ed è stato poi chiuso nel giro di pochi anni, chiaramente facendo venire meno tutti quei posti di lavoro che offriva alla regione e soprattutto il servizio sanitario pubblico, che ne viene meno. Nel nostro Basso Molise ormai tutti i cittadini molisani devono riversarsi sull'ospedale di Termoli, dove però assistiamo comunque a una riduzione di personale. E appunto questo un impegno personale che prendo è quello di smetterla di portare avanti politiche che favoriscano scelte clientelari, che diano la possibilità a istituti sanitari che offrono servizi sanitari ad alto costo. Credo che si debba ritornare a fare scelte amministrative concrete, che diano però risalto al nostro servizio pubblico sanitario, dove il cittadino, soprattutto i cittadini molisani, che appartengono alle fasce economiche un po' più deboli, debbano comunque avere la possibilità di usufruire di questi servizi a bassi costi. Si è parlato di riduzione di posti letto, però in realtà abbiamo assistito comunque a un incremento di centri sanitari specializzati, faccio un esempio, la Neuromed, Pozzilli, eccetera. Quindi in realtà i posti letto ne abbiamo bisogno, però sono comunque incentivati sulle strutture private. Bene, è arrivato il momento di dire basta a queste politiche, di mettere in atto scelte amministrative ponderate e che non diano più risalto semplicemente a queste strutture. Lei ha parlato del tema della sanità. Io non per caso le ho chiesto appunto se in Basso Molise è diventato difficile curarsi, perché in effetti a fronte di una popolazione che conta in Basso Molise oltre 110.000 unità, che lo ricordiamo raddoppiano nel mese estivo, ormai diciamo si assiste, essendo ormai l'ospedale di Larino, non più appunto un presidio ospedaliero, ma una casa della salute, lo abbiamo anche testimoniato, nelle scorse settimane, quello che è diventato l'ospedale di Larino una struttura costata a molti. Doveva essere un fiore all'occhiello della nostra sanità. In realtà è stato chiuso. Quindi si assiste praticamente ormai a un solo presidio ospedaliero, che è quello di Termoli, che non ce la fa più a soddisfare tutta l'utenza che fa fronte proprio a tutto il territorio del Basso Molise. E che poi ovviamente si ripercuota anche in problematiche che si verificano soprattutto nei presidi, nei punti d'emergenza, quindi nel pronto soccorso di Termoli. C'è gente che per ottenere una prestazione sanitaria anche di fondamentale importanza deve attendere mesi, se non addirittura anni. Quindi ci sono liste interminabili di persone che possono semplicemente richiedere servizi pubblici perché non hanno grandi possibilità economiche e quindi sono costretti ad attendere per ottenere prestazioni. Lei è un'elettrice del centro-sinistra. Assolutamente sì. Peraltro sei anche candidata nel centro-sinistra. Le chiedo, è delusa dall'operato del governo regionale guidato da Paolo Frattura in questi anni? La lista di liberi uguali entro la quale mi sono candidata ha comunque ritenuto opportuno mettere in campo persone che comunque fossero nuove e che non appoggiavano comunque le scelte della vecchia amministrazione. Sono dell'opinione che è stata una scelta ben ponderata in quanto credo che tutti i cittadini me compresa abbiamo voglia di vedere scelte diverse di quelle messe in atto fino ad oggi. Basta mettersi in auto per pochi chilometri ci rendiamo conto che la nostra bellissima regione è piccola ma molto bella perché abbiamo risorse naturali ancora intoccate però purtroppo abbiamo infrastrutture e una rete stradale in condizioni pessime. Quindi ritengo fondamentale ricominciare a incentivare le nostre infrastrutture a riorganizzare la rete ferroviaria a riorganizzare la nostra rete stradale e soprattutto dare incentivi all'occupazione giovanile. Io sono veramente dispiaciuta perché ogni giorno assisto quotidianamente a giovanissimi neolaureati che purtroppo sono costretti ad abbandonare il nostro territorio e per realizzare i loro progetti di vita futura non solo vanno a vivere fuori dalla regione molise ma addirittura fuori dal territorio nazionale. Ecco, credo che sia arrivato il momento di dire basta a tutto ciò allo spopolamento dei nostri paesi delle nostre piccole città e di dare finalmente fiducia a questa forza lavorativa giovanile che possano fare leva appunto sulle nostre strutture economiche e incentivare il lavoro dare una sicurezza non c'è dignità senza lavoro ecco, una frase di Papa Francesco che io in questo momento voglio rubare perché non si può parlare semplicemente di sussidi, di assistenzialismo ecco, io ho tantissimi ex colleghi che purtroppo sono in cassa integrazione quindi chi di noi non conosce qualcuno che vive purtroppo questo momento difficile di aver perso il lavoro e magari non è l'unico componente della famiglia ma addirittura entrambi i genitori insomma sono senza lavoro e questo sinceramente è una situazione improcrastinabile sono scelte peraltro lei sta parlando di lavoro peraltro la CGL ha diffuso proprio ieri dei dati allarmanti che sono stati resi noti dall'Inps e che testimoniano il fatto che dal 2015 al 2017 in Molise si è assistito a un raddoppio dei contratti a termine a fronte invece di un dimezzamento sostanziale dei contratti a tempo indeterminato quindi è una regione sempre più precaria dove peraltro aumentano le ore di cassa integrazione e anche qui lei ne sa qualcosa con il Jobs Act la politica relativa appunto agli ammortizzatori sociali ha subito un notevole taglio quindi il Molise rischia in un certo senso di esplodere dal punto di vista sociale questo è il problema oggi ma a fronte di questo problema noi purtroppo stiamo assistendo molto di più a slogan che a proposte concrete mi fa piacere che lei da anche da insomma candidata per la prima volta candidata in una competizione elettorale sia premendo proprio su queste problematiche io prima di essere una candidata di liste di liberi uguali sono una lavoratrice una lavoratrice donna che ha dovuto lottare con tutte le sue forze per potersi realizzare ho fatto la scelta di studiare nel Molise quindi mi sono laureata a Campobasso e nonostante ho avuto l'opportunità di andare a lavorare fuori dalla regione poi ho deciso di ritornare e dare il mio contributo come lavoratrice allo sviluppo economico della regione perché credo che dobbiamo restare dobbiamo cercare di mettere in campo le nostre competenze le nostre professionalità e dare ecco io dico di ritornare un attimo ad avere delle amministrazioni che fondino le loro politiche su valori su principi su scelte che non siano semplicemente a tutela dei pochi ma a tutela di quelli che sono la stragrande maggior parte dei cittadini e dei nostri corregionali lei ha parlato anche di infrastrutture sottolineando quello che è il problema forse che i cittadini toccano con mano tutti i giorni che è proprio il problema derivante dalle infrastrutture le nostre strade dalle condizioni disastrose soprattutto le strade provinciali noi sappiamo anche che le province in questi anni hanno subito dei notevoli tagli nei trasferimenti appunto derivanti dallo Stato centrale però negli ultimi anni noi abbiamo assistito anche dal punto di vista delle infrastrutture a una riprogrammazione dei fondi strutturali pari a 90 milioni di euro qui chiaramente l'assessore regionale di trasporto e lavori pubblici Pierpaolo Nagnine sa qualcosa una riprogrammazione dei fondi che allora erano stati destinati al governo di centrodestra all'autostrada del Molise di questi 90 milioni 24 milioni di euro sono finiti alla metropolitana leggera al primo lotto matrice boiano ecco io le chiedo ma lei come la vede? diciamo questo progetto di metropolitana leggera matrice boiano ecco secondo lei è utile un progetto di questo tipo? parliamoci con molta franchezza la nostra regione è una piccola regione è la diciannovesima regione dell'Italia ha un territorio limitatamente esteso parlare di una di una struttura megagalattica quando abbiamo problemi molto più semplici come quello appunto sulle condizioni della rete stradale ricordiamoci che abbiamo delle arterie principali che percorrono il nostro Molise per quindi tutto l'asse stradale che dal centro Molise cerca di andare sulla costa sono delle strade ormai obsolete completamente superate e avrebbero assolutamente necessità di essere ripristinate e comunque adeguate alle condizioni di traffico dei nostri giorni quindi io più che parlare di grosse realizzazioni di grandi progetti che sicuramente avranno il loro fascino e la loro il loro imprinting necessario ma quello che ritengo più opportuno è quello di mettere in atto politiche di ripianamento di quello che è l'assetto stradale odierno e poi perché no se ci sono dei fondi se ci sono le possibilità perché no realizzare opere che possano essere di aiuto alla nostra economia benvengano siamo qui per questo insomma siamo pronti ad adoperarli però rimettiamo prima in sesto le strade le strade lei vive a Termoli io vivo a Termoli da 18 anni anche a Termoli insiste l'idea di un progetto di cui molto si sta discutendo un progetto controverso quello che i cittadini conosceranno come il tunnel che poi non è solo il tunnel ma possiamo definire come uno stravolgimento di una parte importante del centro cittadino di Termoli un progetto finanziato con fondi FSC parliamo della programmazione 2007-2013 con fondi pari a 5 milioni di euro cui si collega chiaramente anche il contributo del privato attraverso un project financing si arriverebbe a 19 milioni di euro progetto che dovrebbe partire entro il 31 dicembre del 2018 con la prima pietra altrimenti si rischia di perdere quei fondi allora a Termoli è stato chiesto un referendum che potesse poi consentire ai cittadini di esprimersi sulla validità o meno di un progetto di questo tipo di questa grande opera pubblica che chiaramente è destinata a come ho detto prima a stravolgere Termoli il referendum è stato negato l'amministrazione comunale non ha consentito appunto ai cittadini di esprimersi sulla validità o meno di questo di questo progetto lei anche come cittadina di Termoli ha timore o reputa invece questo progetto un punto di partenza anche per poter rilanciare l'occupazione ma anche per poter modernizzare come sostiene il sindaco la città guardi io personalmente amo Termoli tant'è vero che ho deciso di trasferirmi e andare a vivere lì il borgo antico di Termoli è meraviglioso è stupendo credo che innanzitutto l'espressione del voto dei cittadini è fondamentale l'attuale amministrazione che è a Termoli non ha presentato un programma elettorale dove mettesse al centro la scelta della realizzazione del tunnel quindi i cittadini che hanno deciso di promuovere l'attuale amministrazione non erano informati su queste scelte che sono state successive alla loro elezione sicuramente è un progetto molto ardito sicuramente è un progetto che darà uno sconvolgimento a livello urbanistico della società e questa cosa sinceramente mi preoccupa io ritorno a dire che più che progetti complessi ritorniamo a realizzare progetti semplici noi a Termoli nei mesi estivi cosa manca a Termoli secondo me a Termoli purtroppo un problema che viene al naso di tutti è sicuramente il nostro depuratore che si trova in un punto strategico della città d'estate il bacino di utenza della cittadina termolese raddoppia quindi chiaramente questo depuratore che ormai è obsoleto e superato tra l'altro sotto sequestro quindi io direi che l'amministrazione si dovrebbe sicuramente preoccupare ma anche non solo l'amministrazione comunale ma anche le amministrazioni regionali di promuovere la cittadina di Termoli perché sicuramente è un nostro fiore all'occhiello è la città che si affaccia sulla nostra costa abbiamo una costa meravigliosa promuoviamo il turismo promuoviamolo ma se non realizziamo delle strutture adeguate ad esempio lo spostamento del depuratore che ormai è diventata una cosa irrimandabile prima di realizzare questi progetti io mi chiedo prima di tutto che i cittadini termolesi esprimano il loro parere perché ognuno di noi deve decidere serenamente e dare comunque un impulso all'amministrazione comunale dando però dei segnali sì è vero voglio il tunnel no non lo voglio sono fermamente convinta di ciò io personalmente non lo appoggio lei quindi è contraria così come peraltro mi pare di aver capito è contraria anche liberi uguali anche assolutamente la lista in cui mi sono incandidata abbiamo proprio in occasione della mia presentazione avvenuta venerdì scorso abbiamo ospitato all'interno della nostra sede il comitato no tunnel per sentire appunto il loro parere che cosa stavano raccogliendo le firme a che punto sono benissimo altro tema importante molto sentito soprattutto nel basso molise il tema della salvaguardia ambientale noi ecco sappiamo nonostante ormai il registro dei tumori sia attivo da pochissimo tempo era stato richiesto già da diversi anni da tante associazioni sappiamo che desta preoccupazione il tema relativo alle emissioni inquinanti di diverse aziende che esistono nel nucleo industriale di Termoli attive soprattutto nel settore chimico farmaceutico e chiaramente si è assistito negli ultimi anni anche a un aumento notevole di determinate patologie soprattutto nei centri costieri nei centri del basso molise ovviamente parliamo di neoplasie quindi malattie tumorali lei pensa che si dovrebbe fare di più per salvaguardare la salute dei cittadini in quelle aree tenendo ben presente chiaramente che bisogna compensare il tema della salvaguardia dei posti di lavoro al tema fondamentale del diritto alla salute dei cittadini altrimenti si rischia di ripetere quello che è successo e sta succedendo ancora con l'ilva di Taranto sono temi veramente che mi stanno molto a cuore e peraltro anche madre di un bambino sono madre di un ragazzo ormai di 11 anni e le dico che ho compilato un questionario relativo a questo registro della salute quindi quando è nato in occasione della nascita di mio figlio e quindi ormai di ben 11 anni fa sono stata diciamo estratta per la compilazione di questo questionario purtroppo sono come mamma come cittadina e sono molto preoccupata di questo incremento di numeri di registrazioni di neoplasie che cosa che cosa mettere in atto il programma di Liberi Uguali è un punto focale in cui io credo moltissimo è quello di rincentivare ritornare a incentivare una green economy che cosa io vorrei dirlo in italiano un vocabolo italiano un'economia verde cosa di così necessaria appunto in una realtà come la nostra piccola e bella come la nostra a Termoli abbiamo un mare meraviglioso all'interno della regione Molise degli spazi assolutamente bellissimi naturali ancora incontaminati però all'interno del nucleo industriale di Termoli abbiamo questa realtà piccola realtà industriale anche se purtroppo ormai pochissime aziende sopravvivono alla crisi economica che stiamo vivendo negli ultimi anni io credo che un connubio assolutamente necessario è quello di promuovere un'economia verde dove venga sicuramente incentivata e premiata le aziende che producono a basso emissione di anidride carbonica sarebbe diciamo un passo in avanti perché cominciare a respirare aria pulita soprattutto con un controllo su la realizzazione di prodotti insomma che poi vadano a inquinare il meno possibile i nostri mari ma altro canto ritengo fondamentale anche incentivare politiche agricole sull'utilizzo dei biofertilizzanti beh chi più di me ne può fare diciamo un'ottima pubblicità in questo senso i piccoli agricoltori chiedo scusa i piccoli agricoltori che sono poi la realtà principale della nostra regione perché non abbiamo grandi imprenditori agricoli e sono sicuramente quelli che potrebbero ricominciare a utilizzare fertilizzanti biologici e incentivare quindi una scelta più green più volta alla realizzazione di prodotti che poi abbiano un impatto ambientale ridotto ma che abbiano anche un ridotto impatto a livello di salute dei nostri cittadini anche perché ricordiamoci che se investiamo e spendiamo risorse incendivando una filiera produttiva sensata risparmieremo comunque risorse economiche sulla salute pubblica sulla salute pubblica che invece siamo costretti a sborsare ogni anno per tutti i nostri concittadini che purtroppo sempre più si ammalano quotidianamente ecco quindi in una realtà come quella di Termoli è ancora più fondamentale parlare di incentivi a un'economia a basso contenuto va bene lei ha parlato all'inizio anche del tema relativo ai giovani e anche questo forse il primo problema fondamentale con il quale il prossimo governo regionale dovrà fare i conti arrestare la fuga dei giovani crescente lo dicono i dati dal mezzogiorno ma chiaramente Molise fa parte integrante del mezzogiorno del paese ecco lei anche come madre se potesse il caso di suo figlio chiaramente non è calzante perché suo figlio ha 11 anni ma se lei avesse un figlio di 18 19 anni oggi gli consiglierebbe di partire e quindi di andare a studiare in un'università del nord e di lasciare questa regione oppure farebbe di tutto per permettere a suo figlio di restare in questa terra e costruirsi qui un futuro sono fermamente convinta per questo sono scesa in campo politico perché a livello personale ho fatto questa scelta di rimanere a studiare nel Molise ho fatto una scelta successiva come lavoratrice di ritornare a lavorare nel Molise promuovo assolutamente una scelta di mio figlio in futuro ma di tutti i giovani che ormai vivono qui ancora nel Molise dobbiamo dobbiamo metterci in testa che non è più il caso di rinviare non è più il caso di procrastinare dobbiamo assolutamente mettere in campo politiche in atto che diano la possibilità di entrare nel mondo del lavoro alle nostre forze giovanili loro purtroppo non sono costretti ad uscire nessuno di quelli dei nostri ragazzi decide scientemente di andare a studiare fuori o di andare a lavorare fuori sono convinta fortemente che come me anche loro amano il loro territorio e il paese in cui sono nati quindi ritengo che invece sia lo spopolamento o comunque l'allontanamento dei giovani dalle nostre realtà produttive è dovuta sicuramente alle scelte amministrative poco oculate in questo senso quindi è vero che c'è un innalzamento dei posti occupazionali ma è anche vero che sono posti di lavoro estremamente precari quindi comunque si parla di lavoro interinale si parla di lavoro interinale si parla di facili licenziamenti ecco il programma di Liberi Uguali punto punto focale in cui io credo tantissimo è fare un passo indietro ridiamo forza al lavoro ridiamo forza a coloro che se lo meritano il governo regionale in questi anni ha puntato molto sui tirocini come opportunità se poi può essere considerato un'opportunità di occupabilità e di lavoro per i giovani il tirocino però è uno strumento fondamentalmente precario dovrebbe essere uno strumento di formazione ma sappiamo che è stato utilizzato da molti datori di lavoro come uno strumento di lavoro vero e proprio a basso costo anche di bassa manovalanza ecco i tirocini non sono un'opportunità questo è in dubbio il tirocino dovrebbe essere diciamo un trampolino di lancio del neolaureato del neodeupliomato quindi dovrebbe avere la possibilità di entrare in una realtà lavorativa e cominciare ad avere l'opportunità di potersi formare e crearsi all'interno di una realtà che sia quella regionale e che sia quella locale molte volte purtroppo devo darti ragione questo tirocino non è stato sfruttato nel migliore dei modi i ragazzi vengono utilizziamo tra virgolette sfruttati la realtà perché ci serve come qualcuno che ci dia una mano a realizzare determinate mansioni in realtà invece all'interno dell'azienda si dovrebbe ritrovare un tutor che dia comunque rilievo al giovane che è entrato nella realtà lavorativa e che ci sia sicuramente un interagire tra l'università e le aziende certo le aziende nel Molise sono poche però quelle poche comunque possono dare delle grandi opportunità soprattutto se parliamo di incentivare comunque politiche per realizzare energie rinnovabili quindi perché non sfruttare progetti di ricerca dove magari i nostri giovani neolaureati potrebbero svolgere il loro lavoro e mettere in campo le loro competenze che sono sicura sono davvero sono lì pronti a voler fare tanto e dobbiamo essere noi in grado di dargli queste opportunità quindi siamo arrivati a conclusione di questa intervista in cui abbiamo toccato chiaramente alcuni dei temi più importanti di questa campagna elettorale io la ringrazio per la disponibilità per essere stata presente nei nostri studi le auguro ovviamente una buona campagna elettorale la sua prima campagna elettorale quindi sicuramente ci sarà anche un velo di emozione ma questo è normale grazie a voi di avermi dato questa opportunità e vi chiedo di dare fiducia anche a volti nuovi come potrebbe essere il mio e di votarci e di sostenerci e di mettere in cambio quel cambiamento di mettere in campo quel cambiamento politico che ormai tutti ci auspichiamo grazie va bene grazie a lei gentili ascoltatori grazie per essere stati con noi anche questa sera vi ringrazio e vi auguro una buona serata